Valorizzare e raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane che stanno mostrando forme e modelli per una trasformazione del paese nella direzione dell'inclusione, della sostenibilità e della resilienza. Sono le finalità dell'evento Città in Scena, il primo festival della rigenerazione urbana che ha visto protagonista con i suoi esempi il comune di Salerno, l'appuntamento che si è tenuto a Roma nella splendida location dell'auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, prodotto da Fondazione Musica per Roma, ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e CIDAC, Associazione delle Città d'Arte. Salerno ha partecipato all'evento finale con due progetti, Porta del Mare firmato da RCM Costruzioni e il piano di rigenerazione urbana dell'ex MCM, Fondo Greco Hub, ex Cotoniere, la porta a sud della Valle dell'Irno a Pelezzano. È una grossa soddisfazione per la nostra associazione essere presenti in un importante parco scenico nazionale che è quello di Città in Scena, portiamo a ribalta sempre il nome di Salerno e di quello che è stato fatto negli anni passati e speriamo che quello che è stato fatto nel passato possa essere poi il motore propulsivo del futuro. Lo facciamo presentando un progetto di Porta del Mare che è stato realizzato in un'operazione di rigenerazione di recupero urbano nell'ex area Merzotto e lo stiamo facendo portando avanti un'idea progettuale importante di partenariato pubblico privato con un'intervento sull'ex Cotoniere dove pensiamo praticamente che si possa sviluppare un nuovo accesso per il Salerno sfruttando un'area che sarà prossima anche dello svincolato stradale facendo sì che quel pezzo di città di fratta che è una zona abbastanza necessaria per essere poi rigenerata possa avere quella forza che lo sviluppo per rendere il Salerno ancora più appetibile anche in termini di rigenerazione. In generale significa non soltanto in materia urbana e di recuperare praticamente patrimonio ma significa anche un intervento sociale, un intervento che... Poco consumo del suolo Poco consumo del suolo è il futuro dell'Italia per cui la stessa comunità europea ci dà questi tipi di direttive come ci dà la direttiva del basso consumo energetico quindi lo spreco penso che sia oggi alla base di tutto. Dobbiamo essere intelligenti a rendere operativi quelli che sono progetti dove i privati possono investire un investimento importante è stato fatto ripeto al Salerno, sono stati fatti negli anni passati crediamo molto in questi progetti diciamo di organizzazione pubblico, di partenari pubblico privato se il pubblico ci dà una mano nell'opera infrastrutturale il privato investe e quindi rigenerare significa praticamente ricaricare anche occupazione e entusiasmo e mettere al centro della città aree degradate che sono frutto diciamo di scelte epocavi diverse oggi si va verso praticamente un recupero di tutto quello che potrebbe essere il patrimonio urbano e quindi dobbiamo essere intelligenti, fare sinergia e preoccuparci di fare sviluppo ma di non fare praticamente attrito o contrasto fra noi, le pubbliche amministrazioni e quelli che praticamente seguono il nostro tipo di settore. Sicuramente un'occasione importante per il Comune di Pellezzano vogliamo essere presenti oggi a Roma città in scena che ringrazio Lance e Aies Salerno per l'opportunità che ci è stata data non solo nella città di Salerno ma anche su un palcoscenico nazionale presentiamo un progetto di rigenerazione urbana tra l'altro con un accordo di programma che coinvolge il pubblico e il privato tra l'altro su un asse stradario molto importante prevediamo la realizzazione per investimento di circa 30 milioni per quanto riguarda la nuova viabilità di Via dei Greci, la nuova porta di ingresso alla Valle dell'Irno quindi alla città di Salerno sull'area delle cotoniere a Pellezzano dove tra l'altro è previsto un intervento di rigenerazione urbana quindi riqualificazione delle aree dismesse delle lavorazioni delle manifatture cotoniere meridionali andiamo ad intervenire con un intervento importante attraverso quello che abbiamo previsto tra l'altro nel piano urbanistico comunale approvato lo scorso anno.